Carmelo Parpiglia, delegato allo sport della Regione Molise, dunque il prossimo 24 maggio ci sarà questa prova del Memorial Battissini. Per la prima volta una tappa europea, un impegno vostro della Regione Molise importante per questo riconoscimento a livello internazionale. Un evento internazionale, la Regione partecipa patrocinando la manifestazione, impegnando risorse anche finanziarie perché al di là della valenza sportiva c'è anche la possibilità di promuovere, di vecolare un'immagine positiva del nostro territorio. Così come ha fatto anche per altre iniziative, come per esempio il Giro d'Italia, che sarà uno spot in Eurovisione sul Rai 3 per il nostro bellissimo Molise. Anche altri eventi, i 10 chilometri di corsa su strada a Isernia sono degli assoluti internazionali e poi anche altri piccoli interventi ed eventi sportivi su tutto il territorio regionale. Infatti la Regione Molise in questi ultimi due anni, dopo un blocco di due o tre anni, ha finanziato tutti i capitoli che riguardano lo sport, l'attività sportiva, gli eventi sportivi, l'impiantistica sportiva e la disabilità. E quindi è un impegno fortissimo, determinato affinché possa essere valorizzato lo sport e tutti i valori che porta dietro. Da punto di vista sportivo, da punto di vista sociale, da punto di vista dell'inclusione, da punto di vista della formazione dei nostri giovani e dei nostri ragazzi. Ecco dunque, diciamo che non solo come dicevamo vicinanza al ciclismo, all'automobilismo, ma anche a tutte le altre discipline sportive. C'è una legge, si può fare appunto una domanda per ottenere il finanziamento, ma va detto anche che anche a livello delle infrastrutture c'è quest'ultima nozione per quel che riguarda l'area della Selvapiana con i soldi che sono di fatto stati sbloccati da voi. Sì, la legge dello sport appunto, lo ripeto, è stata finanziata ormai da due anni, da quando io sono consigliere delegato allo sport con l'avvento della nuova amministrazione. Abbiamo finanziato tutti quei capitoli che riguardano per esempio le società di basket, di pallavolo, di calcio, come per esempio il Campobasso calcio, oppure per quanto riguarda l'impiantistica un evento importante è stato salvare dall'apparenzione amministrativa gli 800 mila euro del stadio Romagnoli. L'impegno veramente profondo, forte da parte mia, anche dalla parte del presidente Frattura, se no quei soldi sarebbero andati persi e invece si darà la possibilità al comune di Campobasso, alla società del Campobasso, ai cittadini, potessero usufruire di una riqualificazione e quindi di un nuovo restyling del Selvapiana. Ecco, l'ultima cosa. Con questi anche altri interventi che riguardano la messa in sicurezza, la messa in norma di tanti piccoli palestre, campi che stanno in periferia, perché riteniamo che l'impiantistica sportiva ha un valore simbolico ma anche sociale, perché dà la possibilità di una pratica sportiva a tutti i ragazzi della nostra comunità, del nostro territorio. Ecco, un'ultima cosa. Proprio per sottolineare questa vicinanza, da due anni è stata organizzata la giornata dello sport, che è stato un po' il fiore all'occhiello per quel che riguarda le manifestazioni a livello molisano. Anche un riconoscimento da dare per tutti gli atleti, anche quelli che magari hanno meno le luci della ribalta. Sì, naturalmente la giornata dello sport è un'ulteriore conferma di quanto questa regione creda nei valori e nella possibilità, nell'opportunità, non soltanto sportivo ma anche economico, che quello sport può dare. In quell'accosione vengono premiati talenti, talenti della nostra regione, che spesso sono dimenticati perché magari appartengono a sport minori, come magari, non dico tanto l'atletica, che magari è stato anche il punto di riferimento delle due manifestazioni, ma anche altri sport, dal judo alla pesistica, tanti altri sport che naturalmente vedono impegnati società, istituzioni, dirigenti e allenatori. Quindi bisogna riconoscere il premio di chi raggiunge dei risultati a livello nazionale e non limitato al territorio, ma è evidente che noi dobbiamo premiare chi arriva a livello nazionale, europeo, addirittura mondiale.